La prima dell'anno aspettando Foggia Juve Stabia ha già regalato i primi sussulti, le prime certezze e consolidato le sorprese di questo avvincente campionato che vede la Ternana approfittare del passo falso del Bari in casa contro la Turris. Le fere di Lucarelli battono di misure le monopoli 2-1 grazie al rigore di vantaggiato dopo soli 9 minuti di gioco. Nel finale della prima frazione Starita trova lo spiraio giusto e sigla il gol del pareggio ma sotto il diluvio spicca Marino Defendi. Il capitano al 61esimo decide la contesa, Umbri a più 8 dal Bari. Bari che al San Nicola dopo la bella vittoria contro l'Avellino ha smarrito la retta via. Auteri deve rincorrere i corallini di Pabbiano che sbloccano il match grazie al solito Giannone. Dursi al suo secondo gol di fila dopo quello messo a segno a Palermo sigla la rete del definitivo 1-1. Nel lanci match la casertana di Guidi torna a sorridere al pinto e lo fa contro il Catania di mister Raffaele. Partita scoppiettante che ha visto i falchetti sempre avanti nel punteggio. Turchetta al debutto segna subito. Il pareggio degli Etnei è di piccolo. Bastano due minuti per la casertana nella ripresa a riportarsi in vantaggio con il gol dell'ex griffato Carillo. Cuppone al 65esimo chiude la contesa portando sul 3-1 i campani. Catania che rientra in partita con il secondo gol consecutivo di Mannè. Ma non basta. Capuano stende la paganese al Viviani e torna a ruggire in casa dopo oltre due mesi. Al mini one basta il gol di Ricci dopo soli quattro minuti di gioco. Il potenza è fuori dalla zona rossa. Paganese in crisi di gioco e risultati. 1-1 a Vibonese e Bisceglie. Avevamo preannunciato scintille. I presupposti, per come si era messa la sfida, c'erano tutti. Passano in vantaggio i calabresi di Galfano con Plescia. L'ex paiano Mansur salva i Pugliesi e Buccaro. La zona Palermo colpisce ancora il Simonetta Lamberti. Al 92esimo, Rauti manda in orbita Boscaglia e rovina le sordi in panchina dei metaliami a Campi Longo. Cavese sempre più ultima. La nebbia ferma al 55esimo Catanzaro e Viterbese. Il punteggio era bloccato sullo 0-0.